Kit fully Reviewer Vi voglio raccontare una storia che è cominciata un miliardo e duecento milioni di anni fa. Cioè, mignoncino più, mignoncenomeno, eh? E questa storia è un po' una storia d'amore. Solo che gli amanti sono un po' particolari. Sono due buchi neri che per milioni e milioni di anni hanno girato uno attorno all'altro avvicinandosi pian pianino. Milioni e milioni di anni. Sapete l'amore anche dai buchi neri è un po' difficile. Solo che a un certo momento sono arrivati così vicini che si sono scontrati e hanno formato un singolo buco nero. E da tutto questo si è generata una potentissima onda gravitazionale che ha viaggiato nel tempo e nello spazio per anni e anni, per chilometri, finché lo scorso settembre è arrivata qui sul pianeta Terra e noi l'abbiamo vista. E dopo mesi e mesi e mesi di analisi, di statistiche e tutto quello che volete, e non si è dormito tanto, abbiamo annunciato al mondo intero che abbiamo visto la prima onda gravitazionale. La storia in realtà è finita qua, però scommetto che vi ha lasciato un po' di curiosità. Tipo, ma sto qua, di cosa diavolo sta parlando? Cosa sono queste onde gravitazionali? Allora, facciamo un po' di storia, visto che siamo qui. Dobbiamo tornare indietro a cento anni fa quando un certo personaggio che forse avete sentito parlare, si chiamava Einstein, se non ricordo male, ha scritto un articolo su una cosa che ha chiamato relatività e su cui ha detto un sacco di cose pazzesche. Ha detto che gli orologi che si muovono vanno più lenti degli orologi fermi, che quando un oggetto in movimento si contrae rispetto a quando era fermo, che lo spazio e il tempo faldano fra loro. Insomma, una cosa pazzesca. E non si è fermato qui, perché dieci anni dopo ha anche detto che ogni massa perturba lo spazio che circonda. E' veramente pazzesco. E, come vi è già stato detto, l'anno dopo ha detto di queste onde gravitazionali. Ma cosa vuol dire che la massa incurva lo spazio? Ma immaginate che lo spazio sia un tappeto elastico. Se voi camminate sul tappeto elastico dritto, andate dritti e non avete nessun problema. Ma se appoggiate una massa su questo tappeto elastico, il tappeto elastico si deforma e voi siete costretti a seguire questa curvatura. Allora, per esempio, prendiamo il sole che perturba il suo elastico e lasciamo scorrere la terra sull'elastico che è curvato. Cosa succede? Che la terra deve seguire la curvatura. Un po' come quando se avete un voltice nell'acqua le navi seguono il voltice e non riescono ad uscire. Adesso facciamo un passettino più avanti. Ok, prendiamo masse che si muovono sull'elastico. Allora, se le masse si muovono, anche l'elastico stesso si muove. E questo cosa provoca? Che non solo vicino all'elastico siamo mossi, ma anche lontano. Lasciate cadere un sasso nell'acqua. Cosa succede? Che si propagano delle onde lontano. Ecco, allora questo elastico che si muove continuamente anche lontano dalle masse, queste sono le onde gravitazionali. Ok, abbiamo capito cosa sono. Cosa fanno? Beh, quando arriva un'onda gravitazionale sulla Terra succede quello che state vedendo nel filmato. Fa paura, eh? Ma perché io il 14 settembre questa cosa non l'ho vista? Perché voi non avete visto il vostro vicino che faceva tutto così? Ecco, allora quando passa un'onda gravitazionale sostanzialmente le distanze si comprimono e si allargano. Ma si allargano di molto poco. Stiamo parlando di distanze inferiori al nucleo di un atomo. Quindi cose che non si vedono ad occhio nudo. Allora come facciamo a vedere quando passa un'onda gravitazionale? Beh, negli anni 60 hanno sviluppato questi rivelatori con delle barre di alluminio. sostanzialmente cercavano di vedere se le barre si allungavano o no. L'idea era buona, però non è che funzionasse molto bene. Allora qualche anno dopo hanno costruito questi cosiddetti interferometri. Cosa sono gli interferometri? Beh, sostanzialmente si prendono i laser, perché usare i laser è sempre figo, no? Allora cosa si fa? Si prende un radiolaser e si spara lungo due direzioni diverse. I laser percorrono la stessa distanza. Quando ritornano al punto d'origine, sostanzialmente si sommano e si annullano. E non si vede nulla. Ma se è passata un'onda gravitazionale, le distanze che hanno percorso i laser sono diverse. E quindi non si annullano più come prima, ma sostanzialmente si vede un po' di luce. Quindi vedendo questa luce si può vedere l'onda. Ok, abbiamo capito essenzialmente come possiamo vedere queste onde, ma che ce ne facciamo? Allora adesso il nostro amico Fido, che è qua dietro, mi invita a fare un piccolo gioco. Quando ve lo dirò, sostanzialmente, vi tapperete le orecchie per qualche secondo. Io alzerò la mia mano, così almeno potrete, quando l'abbasserò, potete riaprire le vostre orecchie. Siete pronti? Avete capito? Ok? 3, 2, 1, via! Bravissimi, bravissimi. Adesso facciamo il secondo giochino, perché il nostro amico piace giocare. Adesso vi coprirete gli occhi. E in questo momento sarà la mia bocca a dirvi quando potete riaprirli. Pronti? 3, 2, 1, via! Ecco, rilassatevi, già che ci siamo. Pensate di essere tranquilli fuori al parco. Ci sono gli uccellini. C'è anche una leggera brezza. Avete il vostro finanziato o finanziata che vi ha portato un picnic. Siete pronti? Mangiate? Ok, potete riaprire gli occhi. Che cosa abbiamo fatto con tutto questo? Beh, quando abbiamo sostanzialmente tappato le orecchie, abbiamo un po' visto come vedevamo l'universo fino ad oggi, cioè con la luce, con gli occhi. Questo è l'aspetto visibile della luce, però, come vedete, ha dei buchi. Si chiama aspetto di assorbimento. Perché? Perché quando la luce, per esempio, arriva nella nostra atmosfera, sostanzialmente incontra idrogeno, elio, azodo, e tutto quello che c'è. All'idrogeno se ne prende un pezzo, l'elio se ne prende un altro, l'agiotto un altro ancora e restano i buchi. Facciamo un po' un esempio. È come dire che spedite una lettera a un vostro amico e il postino ve ne cancella qualche parola. Bastardo! Voi leggete la lettera, per carità, però qualche parola ve la siete persa. Con la luce è la stessa cosa. Le onde gravitazionali hanno delle buste così fisse, ma fisse, che nessun postino riesce ad aprirle. Ma c'è molto di più. Voi, quando avete usato solo gli occhi, potevate vedere un cretino sopra il parco con la mano alzata. Ma quando mi avete ascoltato, forse, forse qualcuno di voi si è immaginato veramente di essere in quel parco. Le onde gravitazionali sono un nuovo messaggero che ci descrive l'universo. Ne abbiamo già parecchi. La luce visibile, la luce in rossa, i raggi gamma, e tutti ci danno delle idee nuove, idee diverse. Quindi anche le onde gravitazionali sono un po' il nostro modo di sentire l'universo, non solo di vederlo. Quindi ci danno qualcosa in più. Veramente? Sì. I buchi neri, per esempio. Per la prima volta abbiamo veramente sentito il suono dei buchi neri. Finora non potevamo vederli, perché appunto sono neri. Niente può arrivare dal buco nero. Ma l'onda gravitazionale prodotta dai buchi neri? Sì. E l'abbiamo vista. Possiamo fermarci qui? Potremmo, ma potremmo anche fare di più. Non abbiamo mica solo i buchi neri nell'universo. Ci sono anche le stelle a neutroni. E le stelle a neutroni sono oggetti veramente molto più complicati di un buco nero. L'equazione di stato, i processi che ci sono dentro. Quindi semplicemente dalla luce che ci arriva dalle stelle a neutroni sappiamo parecchio, ma non sappiamo tutto. Possiamo sapere di più con le onde gravitazionali che ci arriveranno dai buchi neri dalle stelle a neutroni. Quando ci arriveranno? Andiamo ancora avanti? Perché no? Le supernove. Grandi esplosioni pazzesche che accadono nell'universo che producono luce, neutrini, raggi gamma, infrarossi e anche onde gravitazionali. Un altro messaggero in più che ci spiega effettivamente come queste esplosioni possono avvenire. E ultimo ma non ultimo il Big Bang di cui sappiamo poco, molto poco, praticamente niente sappiamo del Big Bang. Però dalle onde gravitazionali del Big Bang potremmo scoprire i primissimi istanti di vita dell'universo. Quelli che ancora non sappiamo. Quindi cosa facciamo? Giochiamo. Adesso sì che possiamo rilevare le onde gravitazionali. Possiamo giocare con le onde gravitazionali. Possiamo tornare indietro ai processi che le hanno generate e possiamo scoprire un po' di più come nell'universo funziona l'amore. Grazie. 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 Grazie.